Tutorial Pull-Up Centric, esercizio di tirata verticale propedeutico per imparare le trazioni alla sbarra. Coinvolge principalmente il gran dorsale, deltoide e tricipiti. L'esercizio prevede l'ausilio di una sbarra alta o in alternativa degli anelli. Afferrare il supporto in presa prona, mani e larghezza, poco più delle spalle con pollice in opposizione. Effettuare un salto oppure aiutarsi con un rialzo per superare con il mento la sbarra. Da questa posizione contrastare la forza di gravità stendendo gradualmente le braccia fino al blocco articolare dei gomiti, impiegando circa 3 o 4 secondi. Durante tutta l'esecuzione si devono mantenere le scapole addotte, ossia vicine tra loro, addome in contrazione e gambe unite. Espirare nella fase discendente.